Tra cassonetti infuocati e auto fumanti, Veronetta brucia. Domenica scorsa l'ultimo episodio che ha visto coinvolte due vetture parcheggiate proprio qui, in via Campofiora, Veronetta. Nel bersaglio del destino, o forse di un piromane, una Volvo con targa svizzera e una Renault Kangoo. Di entrambe non è rimasto niente se non la carcassa. Le cicatrici sono evidenti, per terra come sugli alberi rimasti carbonizzati. Ma la scia di fumo non si ferma qui. I pompieri sono dovuti intervenire anche nella notte di giovedì scorso per estinguere le fiamme che stavano per inghiottire alcuni cassonetti. E intanto cresce la paura tra la gente. Ero vicino alla tapparella. Ho sentito un ciac, ciac, come quando si butta un petardo. E poi ho visto una fiammata rosa. E allora mi sono un po' incuriosito, ho alzato un po' la tapparella, ho guardato giù e non ho visto più niente. Ho detto, ah, qualche ragazzo ha buttato un petardo. Dopo neanche tre o quattro minuti, praticamente, una fiammata e via col vento. Dei colpi, allora ho tirato sulla tapparella e ho visto il fuoco. Ho paura di morire, sono spaventata tanto.